Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di FIFA 18 oggi andremo a completare la sfida creazione rosa Lucas Moura vi invito a guardare le altre due sfide che ho fatto anzi l'altra sfida, scambio culturale posterò il link in descrizione e a vedere anche il video in cui spacchetto i premi di scambio culturale muoviamoci perché ragazzi mancano soltanto due ore quindi vi invito velocemente a completare questa sfida quindi Gary Rodriguez è un ES qui ci vuole il cambio a ruolo da ES a AS poi non ci vuole più niente Wagner Love, come ci ci abbiamo Zungu come ci dici Mvila come ci dici Bodmer come TD abbiamo Malquit come DC abbiamo Kabul come altro DC Ijimit, Marin, costano poco Kursawa è quello che costa di più ma serve per l'Overall e infine Ryou perfetto, portiere un pochino pelato andiamo a comunicare la rosa per prenderci il nostro premiaccio Bapini ok ragazzi andiamo al nord di Londra vediamo cosa succede al nord di Londra ok qui non servono cambi a ruolo completamente perfetto possiamo partire quindi Fernandao come ES abbiamo Seba come C.O.C. abbiamo Giuliano come C.D.C. abbiamo Shalopa come C.C. Carioca è quello che costa di meno Wendel sempre per l'Overall Defendi perché costa poco Isfunes Mori perché costa poco Jean-Mart guardate che toco guardate che bello un attore e poi il nostro portiere Guzman preso a pochissimo ha un piccolo difetto nei capelli ma niente di che andiamo a comunicare la rosa e spacchettiamo subito insieme ragazzi sperando di essere un po' fortunati si si non ci interessa come vedete ho pochissimi crediti ragazzi ci siamo rovinati non vedo l'ora di che terminano le sfide andiamo a come sono Squad Battle sono in oro 2 niente devo fare qualche partita e da un po' che non ci gioco dobbiamo risalire di livello almeno fuori classe ok andiamo a spacchettare abbiamo tre pacchetti mi prendo in quel quale le facciamo quale 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 giocatori oro dai che è quello più vediamo tedesco dici Hummels no ragazzi pensavo fosse Hummels che figura di ma dai pensavo fosse vabbè dai non vale proprio nulla pensavo forse Hummels porca porca vacca niente ragazzi delusione delusione vediamo di questo vediamo cosa succede niente 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 da fa niente Martinez grande Martinez Regini niente niente che ci interessa speriamo nell'ultimo pacchetto forza dai dai ah pacchetto piccolo ma ma porca dai ragazzi come si fa a non bestemmiare in turco o in tunisino ma dai che sfiga ma che sfiga va bene ragazzi vi invito a iscrivervi al canale dovrebbe apparirvi in basso a sinistra l'iscrizione per il canale guardate anche i miei video che posterò in descrizione i video dello scambio culturale vi invito comunque se questo video vi è piaciuto a lasciare un like e iscrivervi al mio canale per oggi adesso è tutto ciao da Zetaclow